Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del Tg6. In primo piano ancora le conseguenze della guerra in Ucraina. Sono oltre mille i profughi già giunti in Abruzzo e tra questi ci sono diversi bambini ed è per questo che la regione e l'ufficio scolastico regionale stanno mettendo in campo misure adatte a rendere agevole l'ingresso nelle scuole. Ce ne parla Stefano Recanati. L'Abruzzo da tre settimane ormai ha dato grande dimostrazione di cuore, di accoglienza soprattutto. C'è la possibilità che i bambini possano essere già inseriti all'interno del sistema Abruzzo mandandoli a scuola? L'assessore competente, quaresimale, sta facendo le riunioni con gli uffici scolastici regionali, con le prefetture e con il Tribunale dei minori proprio per favorire questa integrazione. D'altronde i bambini che sono arrivati, a cominciare da quelli di Cerchio e poi San Benedetto dei Marsi e tante altre città che hanno cominciato ad ospitare bambini, sono purtroppo spesso anche bambini orfani. Alcuni avevano già delle pratiche di adozione in corso e si sono i genitori e le associazioni che curavano queste pratiche. Opportunamente si sono sbrigati ad andarli a prendere al confine con l'Ucraina proprio per evitare una loro triste fine e poter perfezionare questo passaggio. Ecco l'Abruzzo che veniva negli anni da tante disgrazie, tante catastrofi, si è sempre rialzata, si è rialzata dai terremoti, anche dalla pandemia. Si aspettava questo grande cuore degli abruzzesi anche rispetto a vicende che arrivano fuori dalla nazione? Ma non c'era alcun dubbio, anche se fa sempre piacere scoprirlo ogni volta, però non c'era alcun dubbio che di fronte a una tragedia in mania, a un esodo biblico di questo genere, ci sarebbe stata una grande risposta. Noi abbiamo detto sin da subito, anche all'ingegner Curcio, al capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che siamo pronti e ci faremo trovare pronti. Se l'afflusso di profughi dovesse proseguire e dovessimo avere difficoltà, non solo in Abruzzo, ma in tutta Italia, a trovare un'immediata sistemazione dignitosa negli alloggi, noi siamo pronti in 24 ore a realizzare tendopoli e centri di smistamento, a cominciare dall'interporto di Avezzano, come abbiamo fatto con i profughi dell'Afghanistan, che anche lì nel giro di pochi giorni arrivarono migliaia e migliaia di persone portate con un ponte aereo, non c'era un'immediata disponibilità di alloggi e di sistemazione per poterli in qualche maniera distribuire per l'Italia, ricorderete che Avezzano ne accolse diverse migliaia per una settimana o due, fino a quando poi le strutture dello Stato e le prefetture hanno in qualche maniera distribuito queste persone sul territorio nazionale, quindi l'Abruzzo è sempre pronto. Anche il comune di Pescara le prese con l'accoglienza, sono già oltre 400 i profughi arrivati nel capologo adriatico. Paolo Renzetti. Prosegue anche a Pescara l'arrivo degli ucraini dal paese martoriato dalla guerra, l'amministrazione comunale che continua a lavorare quotidianamente per l'accoglienza, Sindaco. Sì, ci siamo organizzati velocemente, anche mutuando l'esperienza della pandemia e quindi dell'organizzazione utilizzata. Abbiamo attrezzato nell'ex stazione ferroviaria di Porta Nuova un centro di accoglienza dove i profughi che arrivano, per la maggior parte bambini, donne e anziani, vengono visitati, rivocillati, accolti per poi sistemarli negli alberghi che abbiamo reperito attraverso convenzioni dirette. Mi sembra che la cosa stia funzionando benissimo, purtroppo questo dramma che stiamo vivendo tutti comporta oggi ma comporterà anche domani l'arrivo di tanti profughi, soprattutto bambini e oggi ce ne sono oltre 400 a Pescara e dobbiamo anche ospitarli nelle nostre scuole, nei nostri impianti sportivi, le associazioni si stanno mettendo a disposizione per fare in modo che questi bambini che vengono dalla guerra, che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di infanzia, i loro legami, possano trovare la giusta accoglienza e anche affetto e attenzione. Quindi le associazioni sportive si stanno organizzando, devo dire che l'idea è partita dalla Curi del Fino, ma adesso ci sono anche altre associazioni. Per quanto riguarda le scuole stiamo in contatto costante con le direzioni didattiche e con loro stiamo organizzando questa accoglienza perché poi ci sarà necessità di avere interpreti, traduttori. Tutto quello che possiamo fare lo faremo, lo stiamo facendo. Siamo passati dall'emergenza sanitaria ad un'emergenza umanitaria, un'emergenza sociale e noi diamo tutto il nostro contributo. Il Comune è il front office, siamo in prima linea. Dall'emergenza sanitaria all'emergenza sociale, ha detto il sindaco di Pescara, ma l'emergenza sanitaria è ancora in atto. Intanto però proprio oggi il Premier Draghi ha reso noto il cronoprogramma che vedrà sul fronte Covid dentro il 15 giugno la fine delle restrizioni dal Green Pass all'obbligo vaccinale. Intanto quest'oggi in Abruzzo sono 2.208 nuovi casi, il 50% in più di nuovi casi negli ultimi sette giorni. Oggi anche un decesso e 586 guariti. Via libera dalla cabina di regia, il governo avvia la fase post-Covid. Il 31 marzo decadrà lo stato d'emergenza legato alla pandemia e dal primo aprile diremo addio al comitato tecnico-scientifico e finirà l'era del commissario Figliuolo. Da quel giorno inoltre non sarà più necessario il Green Pass in hotel, nei negozi, nei musei, alle poste e in banca. Servirà ancora per accedere a bar, ristoranti, mezzi di trasporto pubblici e stadi, ma solo quello base, cioè ottenibile anche mediante tampone. Dal primo maggio invece niente più mascherina al chiuso e cadrà totalmente l'obbligo del certificato verde. Dal 15 giugno, infine, insegnanti, operatori sanitari, forze dell'ordine, over 50, non saranno più costretti al vaccino. E oggi in Abruzzo non diminuisce il numero di nuovi casi, ma scende quello dei ricoveri. Sono 2208 i nuovi contagiati, il tasso di positività è del 14% e considerando un decesso recente e 586 guariti, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 35.041, 1.616 in più rispetto a ieri. Di questi, 263 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 11, 1 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 34.769 positivi accertati, 1.628 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dei nuovi casi di oggi, 506 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 562 a quella di Chieti, 440 al Pescarese, 611 al Terramano, mentre 41 dei contagiati provengono da fuori regione e per altri 43 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. Carenza di organico al Tribunale di Teramo, dove per definire una causa civile si impiegano mille giorni. L'Ordine degli Avvocati di Teramo ha scelto nella giornata di oggi l'astenzione dalle udienze come segnale di protesta. Tania Bonnici Castelli. Giornata di astenzione dalle udienze da ogni attività giudiziaria nel settore civile e penale degli Avvocati iscritti al Foro di Teramo. Sono circa 1.200 i professionisti che hanno aderito allo stato di agitazione, in pratica la totalità. Le motivazioni riguardano gli annosi problemi di carenza di organico in Tribunale. Nel Presidio di Teramo pendono ancora i due terzi dell'arretrato dell'intero distretto. Vi è il maggior tasso di turnover di magistrati in uscita, c'è il maggior numero di procedimenti iscritti da più di 10 anni e i tempi per definire una causa civile superano in mille giorni. Un record negativo in Abruzzo, fortemente preoccupato il Presidente dell'Ordine Forense, Antonio Lessiani. Il rischio è che di qui a qualche anno si verifichi una tempesta perfetta. Per esempio, adesso siamo il Tribunale più grande d'Abruzzo insieme a Pescara. Con la soppressione dei tribunali minori, che è stata prorogata di un anno, cioè Lanciano, Avezzano, Sulmona e Vasto, rischiamo di diventare forse il più piccolo. E quindi mi chiedo se a fronte di questo, a fronte degli investimenti che saranno necessari anche sulla struttura, che è assolutamente inadeguata, se la scelta sarà quella che è stata fatta per la Camera di Commercio, per la Banca d'Italia, per le altre banche sul territorio. Cioè, verremo accorpati a Pescara o all'Aquila, considerando anche quello che è già avvenuto per i collegi elettorali. Quindi noi come Ordine abbiamo il dovere di lanciare questo grido di allarme, che già è stato raccolto, devo dire, da tutte le nostre rappresentanze politiche locali ed anche nazionali. E spero che questo riuscirà a dare i suoi frutti. Attualmente il Tribunale di Teramo nel settore penale può contare solo su due magistrati giudicanti. E' chiaro che la situazione si presenti particolarmente critica, soprattutto per i cittadini che aspettano giustizia. Attualmente in sede di battimentale noi possiamo contare su due giudici toccati. Quindi una delle due audienze di battimentale è ormai saltata da mesi. I ruoli monocratici sono ridotti a due. Pensiamo in queste condizioni che noi abbiamo anche la sfortuna di dover celebrare i processi di competenza della Corte d'Assise necessariamente al dibattimento. Un processo di Corte d'Assise toccherà i soli due giudici che abbiamo, oltre a quelli popolari, richiede per la sua celebrazione tempi lunghissimi. Dopo lo stato di agitazione la marineria di Pescara ha deciso di sospendere lo sciopero e i pescherecci sono tornati in mare. La marineria pescarese è tornata in mare. Dopo la sospensione dello stato di agitazione i pescherecci hanno tolto gli ormeggi. Restano risolti però tutti i problemi che stanno causando un grave danno economico alla marineria ormai alle prese con una situazione economica insostenibile. Il caro gasolio è solo l'ultimo scoglio da superare dopo due anni di pandemia e la problematica dei bassi fondali del porto. Il problema è che siamo rimasti come Abruzzo isolati da tutto il resto d'Italia perché hanno ripreso domenica notte il mare. Noi in maniera democratica, io ho convocato una riunione con tutte le marinerie abruzzese, abbiamo deciso di tornare in mare perché è stata proprio una forzatura, perché i commercianti stanno andando pure alle altre regioni ad acquistare quel poco di pesce che si trovava. Quindi ci siamo trovati, oltre a danno la BEF che pure i commercianti giustamente hanno le loro attività, stanno andando via, ma non è cambiato assolutamente niente e quindi stiamo in base allo sbando. In prospettiva che cosa potrebbe accadere? Ci potrebbe essere un abbrassamento dei prezzi del carburante, almeno questo? Ma non lo so, è troppo facile dire l'abbassamento. Questi non sanno cosa fare, la realtà è questa, è inutile che ci giriamo attorno alle faolette. Io so che l'U16 ogni azienda deve andare commercialista, piove o c'è il sole. Questi qua non si rendono conto che non è più sostenibile fare attività in questo modo qua. Quindi pure l'Europa, che tanto si parla di questa Europa, ogni volta per trovare qualcosa bisogna avere sempre il morto. Questa è la realtà. Qua ogni cosa, pure se l'ente locale ci vuole dare una mano, la regione ci sta vicino, però ogni cosa è un passaggio europeo, c'è una burocrazia, una lentezza che tu praticamente non ce l'hai. Ti ripeto, io ce l'ho dipendente, a fine mese li devi pagare, quindi che gli vado a dire, aspetto che l'Europa sta facendo l'emendamento. Ogni cosa è un no, quindi che rivedano le regole europee in tutto, non solo per il lavoro, in tutto. Perché qui stanno dietro di mille anni luce, voglia che dicano l'Europa, Europa. Io non è che sto contro l'Europa, ma questa è un'Europa falsa. Per chiude il pesce, diciamo, il prezzo del pesce ad oggi qual è, com'è? Non è cambiato nulla, perché il potere d'acquisto delle famiglie a terra, anzi, si è abbassato di nuovo, perché la scala mobile non esiste, lo dipendente guarda sempre lo stesso. Qua l'unica che non me la vogliono male, chi è che sta bene? Sono tutti gli statali, perché è inutile che si lamentano. Perché almeno nella disgrazia loro, a fine mese, lo stipendio ce l'hanno sempre. Questa è la realtà di questo Paese. Ci sono fondi da attingere tra i 50 miliardi di euro che l'Unione Europea ha messo a disposizione per l'alta tecnologia. La Giunta Marsilio deve attivarsi per non far perdere all'azienda questa opportunità. E l'appello lanciato dal capogruppo in regione del PD, Silvio Polucci, che è intervenuto sulla avvertenza El Foundry. Il consigliere regionale del PD, Silvio Polucci, è tornato a parlare della spinosa avvertenza El Foundry. Il capogruppo Dem ha raccolto l'ennesimo allarme dei sindacati dopo il cambio di agenzia interinale interna allo stabilimento e al progressivo depoperamento del know-how aziendale. Polucci sottolinea l'assenza del governo Marsilio, lamentando l'assenza di una politica industriale e di un dialogo con le organizzazioni sindacali. La regione si attivì per far rientrare El Foundry nel decreto governativo sul potenziamento delle realtà produttive di microchip presenti sul territorio nazionale. Ha rilanciato Polucci per spingere la produzione di semiconduttori in Europa fino al 20% entro il 2030, sul piatto 50 miliardi di euro dall'Unione Europea. Anche questa è una partita dove si purtroppo sottolinea, costate e rileva l'assenza del governo regionale. Proprio il PNRR dovrebbero essere risorse utilizzate anche per tornare a fare politica industriale, a partire da un sito produttivo così importante per know-how, tecnologia ovviamente, in Europa, in Italia, oltre che per l'Abruzzo e la Marsica. Ebbene, da questo punto di vista si registra anche nelle audizioni che abbiamo avuto a disposizione nelle capigruppo da parte di questo governo regionale di Marsilio, la totale assenza. Le organizzazioni sindacali lanciano un'allarme da tempo, chiedono dialogo e la possibilità di avere prospettive, conoscenza delle prospettive per quanto riguarda questo sito industriale e non c'è una regione che prende in mano la bandiera. In realtà la questione, il grande tema delle politiche industriali a partire dalle El Foundry e abbiamo di fronte per esempio 50 miliardi di euro che l'Europa mette a disposizione sull'alta tecnologia e che in questo caso non sappiamo se riuscirà ad essere raccolta proprio dal sito produttivo della Marsica. Se ne parlava già nell'Ottocento e nei giorni scorsi è tornata alla luce. Si tratta della cisterna di epoca imperiale, riemersa durante l'ultima fase degli scavi di archeologia preventiva condotti in piazza San Giustino a Chieti. I tanti ritrovamenti di questi scavi raccontano il ruolo di riferimento dell'antica teate per i marruccini e per la storia dell'Abruzzo. Vediamo il servizio di Selene Secondi. Un'ennesima scoperta archeologica in piazza San Giustino, una cisterna del secondo secolo dopo Cristo che è l'ennesimo ritrovamento archeologico di questa piazza che ha anche un grande valore storico. Certo, è una cisterna che viene a comporre il quadro dell'uso che nel tempo è stato fatto della piazza, cioè di questo spazio che alla fine è diventato una piazza, alla fine di 2000 anni di storia, ma che un tempo era abitato in varie forme, dall'uso funerario nel IV secolo anticristo, poi all'uso forse residenziale abbiamo trovato mosaici e una struttura edilizia piuttosto importante. Era un deposito, era un serbatoio idrico e quindi serviva alla città per l'uso dell'acqua, ma è particolarissima perché è grande, è molto grande, è realizzata in mattoni e quindi in tecnica laterizia. Con la scoperta di questa cisterna idrica del secondo secolo dopo Cristo, di fatto si concludono gli scavi in piazza San Giustino per studiare e capire cosa c'era sotto questo collegallo e poi procedere naturalmente alla restituzione di questa piazza alla città di Chieti. È stato un anno di scoperte e di accertamenti molto interessanti e significativi di cui renderemo conto in un altro momento, ma adesso dobbiamo chiudere perché abbiamo riportato tutti quelli che erano i dati che potevano avere un interesse per arricchire la conoscenza del collegallo e abbiamo avuto diverse scoperte interessanti, ma il progetto è quello di restituire alla città una piazza. C'è in progetto anche un centro di documentazione? Assolutamente sì, sotto la sede storica del comune ci sono dei locali che sono stati individuati congiuntamente dal comune e dalla soprintendenza come adeguati per realizzare un centro di documentazione sulla vita nei secoli di questo luogo, del collegallo, che ci ha dimostrato di parlare tante lingue dall'età preromana fino all'Ottocento. Entro aprile la piazza verrà ricoperta per consentire il passaggio della processione del venerdì santo. A maggio poi inizieranno i lavori di pavimentazione che consentiranno alla piazza di essere di nuovo fruibile per la metà di agosto. Una volta terminati i lavori e finito il distanziamento Covid potrà contenere fino a 1.400 persone sedute, il che ne farà una seconda arena dopo la Civitella per gli eventi a Chieti. Lunedì 21 al Via il terzo appuntamento per l'Abruzzo all'Expo di Dubai, protagonista del terzo atto 26 imprese aderenti alla manifestazione di interesse indetta da Arap. Dopo il successo all'interno di AgriFood, l'Abruzzo ancora protagonista l'Expo Dubai 2021. Gli appuntamenti del 14 e 15 marzo hanno sancito come la nostra regione abbia fatto passi decisivi verso la filiera dell'idrogeno. Tutto questo grazie ad Arap, braccio operativo della regione nella Mission di Dubai che sta partecipando anche a due bandi ministeriali che mettono a disposizione e risorse per la produzione della componentistica necessaria allo sviluppo dell'idrogeno verde. Dobbiamo dare servizi a valore aggiunto, servizi innovativi e soprattutto dobbiamo essere promotori di un sistema, di un approccio sistemico, essere catalizzatori di tutti gli operatori economici per far sì che si inizi a pensare sul tema del momento, quello della sostenibilità, ma quello dell'efficienza energetica perché su quello noi giochiamo tutta la partita della sopravvivenza, non tanto della competitività, iniziare a pensare a un sistema ad esempio che riguarda la fornitura dell'energia e quindi a un sistema di comunità energetica, ma iniziare a pensare anche a progetti in cui l'energia si produce e viene consumata sul territorio. Non solo eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche quindi, ma anche grande attenzione a quelle che sono le eccellenze industriali della nostra terra. L'Abruzzo negli anni è diventato un modello di sostenibilità invidiata all'interno della nostra nazione, non solo, grazie alla propria capacità di far coesistere poli industriali e tre parchi nazionali. Ringraziando Dio noi abbiamo un sistema automotive che rappresenta il 55% dell'export regionale che oggi, nonostante i tanti problemi che attraggiano questo settore, riesce ancora a stare in piedi. Nello stesso tempo i nostri parchi rappresentano sicuramente una fonte di attrazione turistica che stiamo cercando di valorizzare quotidianamente. Dal 21 al 23 marzo a Dubai i protagonisti saranno ora le aziende interessate all'internazionalizzazione. L'obiettivo? Quello di staurare attraverso la collaborazione con la Camera di Commercio di Dubai un filo diretto tra imprese miratine e il territorio della regione Abruzzo. E' la parte più complicata ma anche la parte più bella. Arap ha fatto una selezione prima con un marchio scientifico attraverso la collaborazione con gli istituti universitari perché voleva uno spaccato delle necessità di tutte le aziende. Era uno spaccato che non serve solo per Dubai o per l'internazionalizzazione ma serve per capire cosa serve alle aziende. Presentata questa mattina a Pescara la nuova campagna oncologica della Lilt che si terrà dal 19 al 27 marzo. Professor Lombardo torna all'appuntamento principe della Lilt, la settimana della prevenzione oncologica. Più che mai oggi dopo due anni di pandemia è importante fare prevenzione? Lei ha centrato con questa domanda il problema. Abbiamo osservato durante questo periodo di pandemia una riduzione delle attività di prevenzione su tutto il territorio nazionale e questo ha comportato e comporterà soprattutto per il prossimo futuro un ritardo sulla diagnostica che a sua volta porterà alla impossibilità di curare in maniera preventiva i tumori. Si prevede che già ci sia un 30% di diagnosi tardive e quindi una riduzione importante nelle guarigioni. Questo è gravissimo sotto questo aspetto che se si pensa che ogni anno ci sono 180 mila morti per tumore e che ogni giorno si ammalano di tumore mille persone significa che la quota che non guarirà aumenterà e il servizio sanitario nazionale sarà sottoposto a uno stress ulteriore perché avrà necessità di più medici, più infermieri e più posti letto. Lo sport, il calcio di Serie C, l'ultima partita contro il Cesena ha confermato i progressi del Pescara in questa fase di stagione. In attesa del derby, Biancazzurri hanno fatto 5 punti in più rispetto al calendario dell'andata. Andrea Costantini Un Pescara diverso, più convincente e forte di una identità che sembra finalmente arrivata lo scontro diretto con il Cesena ne ha dato piena conferma contro quella che deniziona la terza forza del campionato il Pescara ha sciorrinato una delle migliori prove stagionali forse la migliore in assoluto nella quale ha concesso il minimo indispensabile ha creato tanto ed ha avuto l'unico torto di non chiudere anzitempo la partita che sia un Pescara con più certezze lo ha affermato chiaramente anche il match winner Mirko Drudi. Ma sì, diciamo che con il cambio di modulo abbiamo trovato finalmente il nostro equilibrio dove riusciamo a esprimerci al meglio un po' tutti penso che la squadra stia facendo molto bene nelle ultime partite stia anche giocando secondo me un buon calcio bisogna continuare così e cercare di migliorarsi sempre C'è stato un momento a cavallo della partita con la Reggiana in cui è sembrato di rivivere il film del girone di andata Pescara impreparato e inefficace con una big Auteri sollecitato da Presidente e DS a dei cambiamenti ma se queste dinamiche non hanno pagato anzi peggiorato la situazione lo scorso novembre questa volta è stato diverso perché i tre centrocampisti sono stati una svolta che si è riversata anche sui numeri se nelle prime 13 giornate di andata il Pescara aveva collezionato 20 punti adesso nel medesimo intervallo sono già 25 un dato importante sarebbe però un errore pensare che i problemi siano tutti alle spalle appena tre giorni prima il Pescara aveva giocato una brutta partita a Olbia ribaltata solo nel finale anche con un pizzico di buona sorte che è mancato in altre circostanze questo per dire che le distrazioni sono vietate e il Pescara ha chance di terzo posto solo se fa certe prestazioni con continuità anche perché il Delfino deve lasciarsi alle spalle Cesena ed Entella perché con entrambe le squadre ha lo sconto diretto in parità ma una differenzialetti peggiore Entella più 21, Cesena più 19, Pescara più 13 senza dimenticare la spada di Damocle di un possibile deferimento che potrebbe avere un riflesso anche sulla classifica Ora per il Pescara è tempo di derby contro un Teramo rinfrancato dal colpaccio salvezza di Fermo e che nei pochi precedenti si è dimostrato avversario scomodo basti ricordare l'1-1 dell'andata o la vittoria di Coppa del Diavolo dello scorso novembre Drudi ha le idee chiare su come perseguire gli obiettivi di classifica Sì, dobbiamo continuare a vincere perché mancano sempre meno partite e dobbiamo cercare di arrivare almeno al terzo posto poi è un derby, è una partita sentita e dobbiamo anche riscattarci un po' dalle prestazioni che abbiamo fatto all'andata in Coppa Squadra al lavoro per preparare il derby di sabato Auteri potrebbe rilanciare dal primo minuto Rauti al posto di un Dursi ancora deludente in difesa torna a disposizione Veroli che si gioca il posto con Frascatore per il resto non ci saranno stravolgimenti Auteri spera anche di recuperare Diambò così da avere un'arma in più per avvicendare uno dei centrocampisti in corso d'opera In vista del derby il tecnico del Teramo Guidi invece spera di recuperare Pinto dopo l'affaticamento riportato a fermo difficile riavere a Josmanovic così è probabile la conferma della squadra che ha espugnato il Recchioni dove ha trovato un posto da titolare Davide Mordini che ascoltiamo Tanti duelli individuali che ti si è andato a prendere tanti traversoni ecco era la spia che ci tenevate particolarmente No, ti ripeto la partita è stata preparata un po' come tutte le altre partite però sai quando poi i punti pesano così tanto ci metti quel qualcosa in più che poi è quel qualcosa in più che ti fa fare il risultato sia su uno contro uno sia su magari una lettura difensiva che dai per scontata e non la dai quindi sono dettagli che poi ti portano a vincere le partite ma guarda le altre sotto stanno vincendo tutte quindi mancano ancora sei partite è ancora tutto in discussione abbiamo messo un bel tassello ma ancora è tutto tutto da giocarsi ci mancano ti ripeto sei partite importantissime con questo atteggiamento possiamo salvarci prima hai detto che vi siete parlati ora per quello che si può dire come è stato il confronto che cosa è venuto fuori no ma in queste situazioni cerchi un po' di capire qual è il problema magari ti confronti cos'è che non è andato e soprattutto la cosa più importante è ritrovare il gruppo perché oggi si è visto ma al di là di chi ha giocato anche in panchina gli atteggiamenti anche nel riscaldamento un compagno che ti viene a dare una mano anche se è incazzato che non sta giocando tutte queste piccole cose poi alla fine fanno la differenza senti che invece per te personalmente che emozione è stata tornare dopo poco tempo di fatto qui a Fermo qua no emozione la partita la sentivo ci tenevo a far bella figura anche perché poi non mi sono lasciato male con la Fermano però venivo da un anno e mezzo dove praticamente avevo sempre giocato in un ambiente vicino casa dove mi sono sempre trovato bene un grandissimo rapporto anche con tutti i miei ex compagni e quindi ci tenevo molto a fare bella figura e la sentivo particolarmente poi sono contento della prestazione cioè ci tenevo a fare bella figura ecco ora è il derby? adesso c'è il derby sì e si affronta come? lo affronteremo come abbiamo fatto oggi con tanta voglia e senza tralasciare dettagli e questa era l'ultima notizia tra poco alle ore 21 torna a velò di Luciano Rabottini e Jacopo Forcella la trasmissione dedicata al ciclismo l'informazione invece tornerà alle 23 con l'edizione della notte grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti